Musica Si inizia così il video Con il mio pacchetto Toz serie A garantito Quindi sarà sicuramente un bel pellegrini O una bella merda Musica Musica Smoldini Te dirò che non lo sto a buttare Questo è da provare Poteva andare molto peggio Si c'è il recent garantito per il K No mi ha scaduto il plus Il glitch plus che scade e tu boom lo rinnovi Sono quei dannati due pic Se parte con quello di destra Oggi me lo sento Ah si prendiamo dei brai per il cacchingo Che cazzo volevo dire Allora io non chiedo tanto In realtà non chiedo niente Chiedo un giocatorino Quindi in realtà chiedo Embelliception Che posso mettere in squadra Che posso farci una cosa Un super sub Dammi un super sub Per ide Quadrato La difesa è buona La difesa della serie A si vola Allora Elite 2 è il tarallino Adesso bisogna vedere Se ho la mano un pochetto calda Allora in realtà Della serie A ce ne stavano parecchi buoni Quadrato Quadrato Ok Tutto a destra Per poi andare con quello al centro finale Aspetta Ok Dai ho uno buono Per l'amor di dio Ok Eh Ti dirò Ti dirò Ti dirò che già stiamo in bastì Ok Insigne Presumo che tu lo voglia come super sub Ah si è da sto cazzo De Ronaldo E droppa Droppa Un'altra volta immobile Ilicic e Tio Hernandez Che c'ha una bella carta Ma sai Hernandez Guarda io ti dirò Che neanche troppo De merda Pacco da 100.000 E poi Pacco Treif Andiamo a far sta pesca Au Luiu Dinza Uuuu Adesso spera solo che dio Ce la mandi Bona E no senza le mutande Ma proprio Apparecchiata Sul tavolino Apparecchiata Ce la devono mettere Allora Attenzione È Ilicic È 96 C'è vorrebbe sta roba dietro Bonito Lui si aggrappa A che giocatori si aggrappa Ilicic E un altro Elite 2 Oh te prego Te prego A sti porri ragazzi Biii Na 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 Ah Ah Vabbè dai Certo che immobile Lo droppano come nulla Damo un po' Una shakerata Tipo barman Dammi una morona bionda E olè Ma chi è Berardi Pellegrini Gli 88 Oh Shakeramo bene Un attimo Fammi da una frullatina Ah si ma che cazzo è Ma droppano solo difensori Ma che è La sagra del difensore Tio Hernanes Da un frisquarrato E tu cazzo te li metti Allora Prima andiamo a aprire questo Ci andiamo a gustare sto cristiano Va Sto cristiano che non è cristiano Voi Jack Shesni Con l'occhiolino Con il pollicione in su No come già ce l'hai Come te lo devo aprire sto pacco Come te lo devo aprire sto pacco Con la mughina Si Che non è mughina Per dare una ripulita A stazzella che ci abbiamo Dai Su per favore Un giocatore Che costa 300.000 Cioè Pensa come siamo arrivati qua Fa ste richieste No non è possibile Non è possibile Un'altra volta questo col pollice così Cioè vorrebbe sta raggia di Boni 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 Iniziamo a sperare Un altro elite 2 Ci possiamo redimere Con un bel dibala Insigne Ci posso mezzo staff Allora Riendiamo con quello tutto a destra Ma Una shakerata Shaker Su Giù Su Giù Su Giù 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 Ma non lascia Ma poi è troppo Un cazzo del giocatore Io lo apro col piede Sto pacco E pacco col piede Mamma mia Sta buono Freco i piedi Non prova mai più a toccar Un pad in vita Tua col piede Ma non Non alzi Non devo proprio più Tocca un pad Veramente Sono difensori Sì Giocatore Toz Serie A Ma non mi dì che mi ricrascio Oddio che è stata Quella laggata Spagna Il mago Il mago È lui Proprio lui Il mago Luigi Alberto Mica male però 97 di rating Allora Dai Ti prego Te prego Uno buono qua No Eh no Eh no Eh no Basta 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 Sempre lui No E lui non dabba No Che gli frega No 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 Te prego Di bala sotto Di bala sotto Qualcosa sotto Qualcosa sotto Anche il segno è sotto Va bene Elite 2 Tanto per cambiare Vado con quello centrale Ah sì Va in the back Ce lasciamo il primo Alla fine adesso Namorijilicic Namorijilicic Simo 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 Poo 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 E Poo Questa è stata la pulita alle mani Fammi seri Fre Qualcosa Che non sia un portiere Qualcosa che non sia un portiere Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Te brai Te brai 95 Ci vorrebbe sta racia sotto Siamo confident Dai te prego Te prego Uno buono sotto Che non si avverà Di pellegrini Starò Dumas Ce ne avverire Orore Ilicicic Ok Ah sì Ma oro 3 Trovi fissi giocatori normali Cioè Non cambia un cazzo No No Non ci credo No Non ci voglio credere Non ci voglio credere Oddio me sta a prendere Il giramento De testa Oh Manco sull'account Ne devo beve un goccio d'acqua Per manda giusta cosa Io lo prendiamo No 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 Eeeh State a far furbo eh Ho aperto Quanti Tipo 4 5 Elite 2 Niente Ma Niente De niente Ti è oro 3 96 Ilicic 99 Cristiano Sono le macine Sono le macine che portano Curo No regà So ha paura C'è pure il tozzo garantito serie A Se troviamo doppio Ronaldo Regalo porto 2000 sub Pack tozzo garantito serie A Sempre nell'account di Cristiano Ronaldo Non puoi troppo un altro Cristiano Ronaldo Non è Cioè Non ci crederò mai One Quadrato 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 Anzi Questo è il Green Link Quadrato 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 Quadrato